Il mondo tutto sta guardando verso Gaza e verso quella zona dove è successo qualcosa di ancora non decifrato, qualcosa di terribile, una catastrofe non naturale, qualcosa che dobbiamo capire, la cui natura dobbiamo interpretare prima che sia troppo tardi. Che cosa è successo? Che questo nuovo disastro successo ieri all'alba ha distratto l'attenzione dell'opinione pubblica che invece guardava da un'altra parte, cioè guardava il Golfo del Messico, dove è un'altra catastrofe, anche questa provocata dall'insipienza, dall'inefficienza, lo sappiamo noi, ancora no. Comunque anche lì una catastrofe naturale si fa per dire è in atto e toliti e toliti di petrolio vengono riversati in mare, nessuno riesce a fermare questo orrore che si sta verificando sulle coste della Louisiana e tutta quella zona che probabilmente resterà inquinata per chissà quanti anni, forse per sempre. Ecco, diciamo i fatti di Gaza, sui quali torneremo a parlare perché non si sa veramente ancora niente, hanno distratto. L'altro problema è un problema che va avanti dal 20 aprile, è successo questo, il 20 aprile è scoppiata una piattaforma petrolifera, uno pensa scoppiano le piattaforme petrolifere ma è un incidente in qualche modo prevedibile. Si sa che quando si opera in mare aperto con questi sistemi può succedere, quindi va tenuta presente l'eventualità di un incidente del genere. Quindi avranno sicuramente, pensiamo noi, messo insieme delle possibilità di intervento per sanare la situazione. Bene, sì, c'è un ventaglio di possibilità di intervento ma finora è stato sperimentato tutto ma non ha funzionato niente. La cosa poi è ingannevole perché quando queste cose riguardano grandi organizzazioni internazionali, soprattutto americane e angloamericane, l'area di efficienza è ancora più imponente. Ci sono questi tecnici tutti con le loro tute, con l'elmetto, con la pila sopra, tutti molto sicuri di sé che spiegano che questo rientra nelle possibilità, nell'eventualità ma loro sono lì pronti, sono pronti a assumersi le responsabilità del caso. Quindi in questo caso la British Petroleum che è la società che gestisce quella zona di mare per estrarre il petrolio, ci pensiamo noi, rispetto a noi, è colpa nostra, quindi faremo in modo che questo naturalmente è aprile. Passa il tempo e non succede niente, come mai? Perché sono stati fatti tutta una serie di esperimenti e non ha funzionato niente. Ora, le più grandi compagnie petrolifere hanno il massimo della possibilità di procurarsi dei sistemi per fermare le catastrofi, quindi tutto il meglio che si poteva avere ce l'avevano, non ha funzionato. E ogni volta veniva ripresentato, sempre con le tute, il metto con la pila sopra, con un grande sussiego, con grande tranquillità, con la tranquillità anglosassone di chi sa gestire le cose anche nei momenti di difficoltà. E spiegavano. Allora, in ordine dal 20 aprile è stato sperimentato tutto. Prima l'hanno buttato di una cosa, tagliamo un tubo, io adesso dico delle cose imprecise, ma insomma grosso modo, tagliamo il tubo e ci mettiamo un tappo. Non è proprio in questi termini. Ci mettiamo una valvola, cioè tappiamo questa possibilità di fuoriuscita con un qualcosa che somiglia per noi a un tappo, ma che per loro avrà un nome. Proviamo, proviamo, provano, non succede niente. Altra conferenza stampa. Poi è bellissimo perché ogni volta veniva presentato il nuovo sistema con anche un pezzettino di filmato, un pezzettino di animazione, di cartone animato che faceva vedere, tutto succedeva. Il secondo sistema, i robottini, si prendono dei robot e si mandano giù dove è avvenuto questo danno al tubo che tira fuori questo petrolio e questi robot sistemano la cosa. Questa è naturalmente raccontata da uno scimunito come sono io su questo argomento, però insomma, e via i robottini. Passa un paio di giorni e dice no, i robottini non hanno funzionato. Però è il momento. Una mica mica finisce qui. Noi siamo la Vitrylum e adesso passiamo all'altro sistema. Il cupolone, vabbè, già la cosa di per sé prende un carattere grottesco. Che è sto cupolone? E' una cupola di 98 tonnellate che doveva coprire la zona dove avviene la fuoriuscita di questo petrolio. Vai col cupolone, cupolone. Non funziona. Nuova conferenza, pila sulla capoccia, grande sussiego, grande tranquillità. Siamo la Vitrylum, ci assumiamo tutte le responsabilità. E' colpa nostra, paghiamo noi, non vi preoccupate. Benissimo. Che si può fare? Perché cupolone non ha funzionato. Adesso il siringone. Io sto riferendo con dei termini così di accatto, ma più o meno i termini erano quelli riportati regionali. Il siringone era un altro sistema, appunto, che con un linguaggio assolutamente scarno. Si spiega, una siringa aspira il petrolio e lo butta da un'altra parte. Adesso non affidatevi a me per bonifiche di questo tipo, perché vedete come sono messo. Però, grosso modo, questo doveva succedere. Oh, il siringone non ha funzionato. Ora, la situazione è drammatica al punto che il Presidente degli Stati Uniti, Obama, è andato sul posto. Andare sul posto non era consigliato dai suoi aiutanti, perché è un momento di grande impopolarità di Obama negli Stati Uniti. Così come il ciclone Katrina ha detto una botta definitiva al Partito Repubblicano durante la presidenza Bush, il tifone fece dei danni tremendi e lo Stato non seppe intervenire abbastanza in tempo. La stessa cosa sta succedendo adesso con il petrolio che sta inquinando il mare di fronte alla Louisiana. E quindi è un momento di grande impopolarità. Ma Obama, che è un uomo che si assume le sue responsabilità, è andato lo stesso. È andato, e naturalmente abbiamo visto i filmati, che si fa in quei casi? Si finge di aver capito tutto, si è accucciato, ha preso un po' di sabbia, ha fatto così, avrà detto Uh, petrolio, che pover fatto. E ha detto, ma qui la situazione è dura, vediamo di uscirne in qualche modo. Naturalmente la cosa non sta prendendo nessuna direzione. Non si sa bene quale sarà il prossimo movimento, la prossima iniziativa della Benetit Petroleum. Petroleum, che si sa che Obama si è assunto la responsabilità, ha detto, con quel linguaggio che piace poi agli Stati Uniti, ai suoi elettori, io sono il Presidente, la colpa semmai è mia. E di più, però accidenti, bene, bene così. E la cosa però è ferma, non succede niente. Non succede niente, ci si abitua al peggio. Una cosa, devo dire, non è avvenuta, e meno male, cioè non hanno fatto le solite cose di chiedere aiuto alle nazioni, amiche, mandateci qualcuno. Di solito si fa, mandateci il miglior siringologo, non lo so, adesso dico delle cose imprecise, mandateci uno pratico. No, neanche Bertolaso hanno voluto, che pure era pronto andare lì, vestito da lupetto antico, con il maglioncino con gli alamari. Niente, manco quello hanno voluto. Quindi, voglio dire, sono pronti a affrontare dei tempi brutti, ma potevano essere ancora più brutti se fosse successo una certa cosa. Ma la nostra protezione, che continueremo a chiamare civile ancora per un po', attualmente è impegnata qui. La cricca che la circonda si dedica al mercato immobiliare, è una pubblicità, noi tanto andiamo avanti. Grazie a tutti.